Io sono Francesco Sani, sono il direttore creativo e proprietario di Sidebloom. L'ispirazione per me è quella che cosa che cerco di mettere un pochino tutti i giorni in quello che faccio, sia professionalmente ma anche e soprattutto nella vita quotidiana, cercando di trarne da chi mi inspira il massimo che posso trarne e per quel che riesco cercando di essere anche io un po' ispirazione per qualcuno. La consapevolezza che è direttamente forse legata all'ispirazione, cioè cercare di essere sempre un pochino misurati nel capire quello che si sta facendo nel bene e nel male e cercando quindi anche di riuscire a capire i propri limiti e se si riesce magari riuscire anche a superarli. L'alleanza è una parola che mi segue, diciamo, da quando più o meno ho coscienza di me, è quello che cerco di mettere sempre in atto sia da un punto di vista personale, facendo parte di associazioni e cercando di creare legami con le persone, ma anche da un punto di vista professionale, in quanto un po' in contotendenza, almeno per quello che riguarda la mia ultradivisa, diciamo, regione, ultracampaninistica toscana, invece, a differenza di quello dell'ambiente, cerco di unire il più possibile anche l'aspetto professionale e realtà con cui mi trovo bene da un punto di vista umano, personale e anche ovviamente professionale. Grazie. Grazie. Grazie.